salve di come dichiarazione la dichiarazione in amore è peggio che quella dei renditi ok è una cosa a malapena tollerabile tra ragazzini di 14 anni la famosa frase vuoi metterti con me vabbè ecco quando si va in età superiori già è una cosa che assolutamente non esiste di solito si valuta questa emerita fesseria quando si vede che una situazione non si sblocca e allora non si sa più dove sbattere la testa ma se state veramente andando a concepire e fare una dichiarazione vuol dire che lei è molto poco interessata e se vi andate ad avventurare in spericolate manifestazioni dichiarazioni eccetera questo può solo convincerla ulteriormente al fatto che è meglio farsi di nebbia ecco allora cosa si deve fare ovvio è chiaro che quando vedete che la situazione o pensate che la situazione può essere matura ovviamente si fanno tutti quei passi quelle minime avance molto accorte questo è chiaro per vedere se lei è disposta diciamo ad avere con voi un approccio più fisico ecco ovviamente sempre facendo attenzione a non cadere nelle molestie o peggio ecco questa è l'unica cosa che va fatta per il resto discorsi così formalizzazioni verbali e cose di questo genere sono assolutamente fuori luogo salute l'unica e l'unica la no Grazie a tutti.